Lasciare l'Italia per chiedere asilo in Austria pur di non vaccinare i loro bambini è la richiesta di 130 famiglie altoatesine che vivono al confine italo-austriaco e che da giorni protestano contro il decreto Lorenzin che rende obbligatorie ben 12 vaccinazioni. In Austria chi non sarà vaccinato entro il 15 marzo dovrà pagare una multa di 600 euro che potrà ripetersi ogni tre mesi. È quanto si apprende da una bozza di legge sull'obbligo vaccinale in vigore dal 1 febbraio 2022 visionata dal Courier. L'obbligo secondo il testo varrà dai 14 anni in su e prevede tre iniezioni, la prima dose, una seconda che dovrà essere fatta non prima di 14 giorni e non più tardi di 42 e una terza dose, il cosiddetto booster, da farsi dopo quattro mesi e non più tardi di nove mesi dal precedente richiamo. Entrata in vigore in Austria la legge sul suicidio assistito. Il farmaco letale si vende in farmacia ma non per questo è facile ottenerlo. I dettagli dal nostro corrispondente da Vienna. I prerequisiti per accedere al suicidio assistito sono la maggiore età ed essere gravemente malati. Due diversi dottori devono confermare la diagnosi e la capacità di intendere e volere del soggetto.